L'annuncio arriva nella tarda serata di ieri e non può che rappresentare una buona notizia. Nella giornata di giovedì non ci sono cittadini veneti, risultati positivi ai tamponi. Una notizia che non può che far bene alla popolazione che giunge in anticipo rispetto alla previsione. Non guasta la festa per quanto relativa il dato discordante offerto dalla protezione civile che conteggia invece sei nuovi casi di positività su scala regionale. L'asso zero di contagi si prospetta a portata di mano. Il prossimo fronte darà una costante da una decina di giorni. Infatti la diffusione in Veneto dell'epidemia era passata dal galoppo al trotto sull'ordine di due decine in media. Questo ha dichiarato a Lanza Crisanti il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea Regione Università di Padova, azienda ospedaliera di Padova.